Verrà inaugurato il prossimo 9 di agosto il santuario di Santa Maria della Tibia nel comune di Crognaleto. La struttura religiosa che sorge su una rupe è posta a 1187 metri sul livello del mare, al di sopra del centro abitato del comune montano. Secondo la tradizione il piccolo santuario eretto nel 1617 sarebbe l'ex vuoto di un ricco commerciante diamatrice, il quale essendo precipitato in un burrone proprio in quel punto e disperando di aver salva la vita invocò la Vergine e poté così tornarsene a casa solo con una tibia rotta. Io dico sempre che le bellezze vanno espresse in tanti modi, noi abbiamo le bellezze ambientali, le bellezze strutturali, ma c'è un'altra bellezza che è quella della storia, della memoria, della cultura. Sapere che il Vescovo Sua Eccellenza Lorenzo Leuzzi, che io ringrazio tantissimo, ha voluto decretare l'istituzione del santuario, arricchisce quel patrimonio del comune di Crognaleto e anche quella parte di appartenenza a chi ha la fede cattolica. Quando parliamo di rilancio della montagna, una montagna che è sofferente, che sta vivendo il momento della difficoltà post-sisma, post-emergenza, significa fare progetti non finalizzati al semplice scopo. Qui parliamo del santuario, parliamo di Piano Roseto, del Museo del Pastore, di Rocca Roseto, un percorso che rimettiamo a sistema insieme al Vescovo Sua Eccellenza Lorenzo Leuzzi, dove mostriamo le bellezze ambientali, naturali e anche la memoria e la cultura di un territorio sofferente, ma che vuole riemergere. La riapertura del santuario per la prima volta, con un decreto vescovire dichiarato santuario Madonna della Tibia, è un segno non soltanto di ripartire, ma di proseguire nel cammino, perché credo che già in questi anni si è fatto molto, però adesso dobbiamo dare dei segni concreti che lasciano la possibilità di poter programmare, per cui la creazione di un santuario nella zona della montagna, in questi paesi spopolati per tanti motivi, e credo un momento importante perché la comunità ritrovi le proprie origini, ma soprattutto riscopa la possibilità di camminare insieme e soprattutto di ripartire.